SP, al riparo! Distrailo! Io disattivo il sistema difensivo. Immortali in arrivo dal garage! Ci serve qualcosa di grosso per abbatterlo. La SP è invulnerabile con quelle difese attive. Non riesco a colpire il suo punto debole! Resta in movimento! Non deve puntarti! È invulnerabile! Dobbiamo neutralizzare le sue difese! Tutto il discorso Dio di centro Va agita un po' di 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 un canale! Grazie a tutti.